Ehi ragazzi, ciao a tutti e rinché bentornati qua su House Flipper Ragazzi come potete notare ho spostato la webcam così potete guardare la minimappa che a quanto ho capito è naturalmente spesso utile ci dice quello che dobbiamo fare in certi lavori Ragazzi oggi poi il gioco è anche uscito quindi se vi piace potete comprarlo su Steam E allora c'ho un punto abilità da spendere Intanto stavo guardando i pannelli Cioè insomma l'esterno, vorrei sistemare l'esterno dell'ufficio Ma comunque vediamo un po' questo punto da applicare Dov'è? Tutto fare Intonacare Posa piastrelle Eeeh Facciamo le piastrelle vai Ok quindi stavo a dire raga Negozio parete Allora vorrei provare questi pannelli scuri Li posso Cosa diamine è? Ah li devo prima piazzare per terra Ok comprati E ora come si usano? Posare piastrelle e pannelli non è ancora disponibile Non abbiamo ancora sbloccato questa possibilità Quindi per ora li lasciamo qua fuori Allora vorrei ragazzi fare una cosa Mi avete dato un bel consiglio Mi avete detto Nick che in un ufficio un letto non si può vedere Effettivamente non ci ho pensato Io stavo a rifare la stanza come l'ho trovata Ma effettivamente un letto in un ufficio non ha senso Mi avete anche qualcuno che mi ha detto che il blu non è bello in un ufficio Ma io a dire la verità lo trovo un bel colore Perché è un colore rilassante Non è un colore pesante E in un ufficio avere un colore non troppo pesante Magari ti tiene meglio concentrato Però comunque il blu mi piace tanto Quindi che stavo a dire No che c'entri tu Togliti Che stavo a dire Ma avete consigliato Perché non ci metti invece un bel divano Eccolo qua divano Sicuramente potrei prendere questo che blu con blu ci sta bene Oh Ok Vorrei proprio però metterlo appiccicato al muro Oh perfetto Quindi raga Ma ci abbiamo un bel divanuccio E quando vogliamo ci rilassiamo un po' Allora Prendiamo quindi un lavoro E' inutile comprare una casa Perché non possiamo fare tutti i lavori L'avete visto Il gioco dice che ancora non abbiamo sbloccato tutto 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 Quindi vorrei capire cos'è sto caspita di amaranto Bonjour pure Penso di voler aggiungere alla semplice casetta Io ho comprato un tocco artistico in più Vorrei chiedervi di dipingere alcune delle pareti Ma tutte missioni in cui devo dipingere? Un muro E questo che vuole Sono una persona di certa età E da anni affitta appartemente agli studenti Ok insomma sto dizio ha affittato la casa a un paio di canaie Questi qua Hanno riempito la casa da spazzatura e schifezze varie Quindi a Nicky gli tocca pulire Ma ci sta ci sta Che ho già dipinto abbastanza nell'ultimo gameplay Quindi possiamo dare una sistemata Il tizio dice sono troppo vecchio per pulire Per pulire io dice sono troppo vecchio Quindi Ma quante caspita di bottiglia Oh sti ubriaconi qua Ma devo quindi anche rimontare Ah installa i dispositivi Cioè questi qua si sono pure portati i termosifoni Ok allora Poi puliamo per terra Con calma Prima togliamo tutta la sporcizia Sì ma sto scusa Che caspita è sto coso Ah è da pulire appunto Ma io quasi quasi Gli dicevo al proprietario di buttarlo Che è proprio uno schifo Oh no questo no No Ok Cos'è sto rumore Cos'è sto Oddio raga Che schifo Ma qui devi chiamare un disinfestatore Cavolo Che schifo Ci sta per terra le blatte Mamma mia raga Ma come l'hanno lasciata sta casa Cioè Ma non è che l'ha affittata a delle persone L'ha affittata Ma neanche i maiali Peggio Peggio dei porci E' una cosa assurda Ma che roba Ma che schifo Che hanno fatto qua Mamma mia raga Una casa così guarda Non l'avevo proprio vista Ed è vabbè che è virtuale però Ma quante bottiglie oh Se le sono scolate tutte E le hanno lasciate qua Cos'è sto cosa? Ah è un ripiano per le bottiglie Sì Ok Allora vediamo un po' come Caspita famo Ma qua dentro E come si fa a togliere sto schifo Oh mio dio Prendi l'aspirapolvere Ah con l'aspirapolvere Le togliamo sta schifezza da per terra Non sapevo che si faceva con l'aspirapolvere Eh quante bottiglie oh Speriamo che non mi stanno a salire addosso Sti cosi Mazza E che oh Ma che è il negozio di liquori Sta caspita di casa Ci stanno bottiglie Da per tutto Da per tutto Ci stanno bottiglie Ma che roba Sacchi da Però i sacchi li riempivano I sacchi li riempivano E poi non li buttavano fuori No cioè però Li facevano i sacchi Però poi li lasciavano in casa Guarda pure la sopra ci stanno bottiglie oh E mo quella come la piglio Al volo Ok Oh mio dio Ci credo che il vecchio Ci credo che quel poveraccio Gli stava a venire l'infarto Minimo minimo avrò tolto 200 bottiglie Accidenti Ok 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 le pareti Quanto meno Non le devo dipingere Per fortuna Chi era? Qua fuori devo fare qualcosa? Penso di no Oddio Guarda sta finestra Mazza? Ok allora raga Penso che quanto meno la sporcizia Quella più grossa l'ho tolta Mo cominciamo a rimuovere ste schifo de blatte Che non si possono proprio vedere E poi cominciamo a pulire Come si deve tutto il resto Cominciamo dalle blatte Che non le posso proprio vedere Prendi l'aspirapolvere Cioè Scusa Manca roba E Prendi la Ah ok Oddio Amine Ma che roba Guarda come le tira Oh Guarda come le tira Tieni venuto E cambiare Impulire No 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 Mazza Mazza E eliminato Un numero sufficiente Di scarafaggi Hai distrutto il nido Effettivamente dovrei spostare Sto caspita di divano Guarda Eh Dovrei spostare Questo frigo Per dare un'occhiata Dietro Ok Bene Credo che le ho tolte tutte Non ce n'erano in altre stanze Credo Allora qual è Ok Proviamo un attimo A spostare sto frigo Ma tanto lo devo spostare Per forza Perché Per pulire dietro Ok Non ce n'è Allora Cambia Impulire Ok Raga E qua Mo ovviamente Alleluia Oh ma c'è zecco Ma che ci vuole qua Eh Ah ok Perché se non Se non fai centro Non fai centro Non va E qua ci vuole mezza giornata Mo per pulire Eh Qui ci vuole mo Mezza giornata Veramente Guarda qua Meno male che mi basta Un attrezzo unico Per pulire tutto Cos'è sto schifo Guarda la parete Allora qua Perché non riesco a Perché non mi riesce qua Guarda pure le serie Come sono sporche Raga Tutto uno schifo Tutto uno schifo Devo anche Sistemare meglio i mobili Mi sa A forza E' tutto buttato a casaccio Mamma mia Oh ce l'ho fatta Finalmente Oh l'ho beccato Ok raga Quindi la stanza Penso che Mo pulita Quindi rimettiamo Al loro posto I vari oggetti Vediamo Questo stava qua La sedia Ovviamente La mettiamo Bella Dritta Quindi una sedia Qua Questa La raddrizziamo E la mettiamo Qua Ok Il divano Ovviamente Gli diamo Una raddrizzata E lo mettiamo Qua Questo Gli diamo Una raddrizzata E lo mettiamo Qua Perfetto Allora Vediamo il soffitto Metti che Ho dimenticato Qualche cosa Eh si Difatti Ho dimenticato Qua sopra Non ci sta la luce Che non si vede In cavolo Oh Bene Così lo Sporco Se c'è sporco Lo vedo Meglio No Ah questo è Ok Era proprio Sulla finestra Ok Allora Puliamo effettivamente La finestra Guardate che razza Disporcizia Non si vedeva Niente Piano Ole Bene Mi manca solo Il radiatore Raga Bene Lo montiamo Subito Così questa stanza Almeno Raga La completo Ok Almeno una stanza Bella pulita Bene Questa stanza È completa Allora Vediamo un po' Di sistemare adesso Questa stanza Cominciamo Cominciamo quindi Con la pulizia Dei vari mobili Del pavimento Ho visto che più avanti Ragazzi Fa sistemare anche Le prese elettriche Più avanti Ci fa fare anche Gli elettricisti C'è ancora di cose C'è ancora di cose da fare Ce n'è Cose che non abbiamo Ancora mai fatto Piano piano Il gioco Ci farà provare Cose nuove Pulisce lo sporco Ancora Non ho finito Qua sopra E Forse se accendo La luce È una buona idea Ok Sicuramente Se c'è sporco Lo noto Ma dov'è Ah eccolo 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 Perfetto Tolto tutto Allora Pulisci la finestra E so due Quindi puliamo Questa finestra E l'altra finestra Guarda Nick Come è diventato Veloce A pulire le finestre Ma che roba Fatto No che manca Ok Installe dispositivi Allora Prima di installare I dispositivi Vorrei dare Una sistemata A sto divano Lo mettiamo Qua E Vorrei Anche dare Una sistemata A questa sedia Perché è troppo Vicino Al radiatore E non riesco In quel caso A piazzarlo Sto radiatore Allora Acquista il radiatore Monta il radiatore A posto E questa stanza È fatta Questa stanza È fatta Allora Puliamo Il corridoio Così Ci togliamo Sto pensiero Ok Difatti dice Che devo Soltanto Rimuovere Lo sporco Ok Bene Ho pulito Il corridoio Allora Qui la stanza Piccola Tutta Sta Schifo Di Sporcizia Bene Qua ci vuole Un altro Ma questi Si sono portati I termosifoni Non è che ne manca uno Mancano tutti Allora Lo sporco Ancora dice Che ce n'è E di fatti Eccolo tutto qua Vediamo un po' Ancora Dovrei trovare Sporcizia Da qualche E' qua dietro Spostiamo un attimo Questo E puliamo Qua dietro Questo Lo piazziamo Meglio Qua Allora Proviamo a spostare Un attimino Questi mobili Anzi Quasi 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 Questo lo piazzo qua Questa sedia Quasi quasi La piazzo qua Eccolo A posto Poi installa i dispositivi Quello lo vediamo Anche dalla minimappa Radiatore Compra Monta E cavolo Non riesco a capire Dove è sta sporcizia Non si vede proprio Allora Questo è fatto Quindi Teoricamente In questa stanza Mi manca solo Un po' di sporcizia Che Ahimè Proprio Io non trovo Comunque ragazzi Ho un punto abilità Vediamo un po' Miglioramenti Ah addirittura Due qua Su pulizia Mocio Ultra Pulizia Più veloce Vedi parte Dello sporco Sulla minimappa Ecco Questo mi può tornare utile Vedi la maggior parte Dello sporco Sulla minimappa E non è una cattiva idea Magari forse Mo' Riusciamo a vedere Dove è sto sporco Che non vedo Guarda Lì sulla minimappa Lo sporco Però in questa Qui però Non capisco Dove è In questa stanza Forse me lo segna In questo punto Ma non lo vedo E come se me lo segna In questo punto Lo sporco Vabbè Lasciamo perdere Vediamo un po' Di sistemare La situazione Qua dentro Guarda quanto sporco Che ci sta Mo' Almeno la minimappa Me lo segna Può tornare utile Lo spero Se no Sono due punti Buttati a cavolo Però vabbè Comunque altri punti Li famo Non è che Non è che i punti Non si fanno La prossima cosa È che voglio Migliorare il mocio Perché è un po' Lento Lo vorrei Un po' Più veloce Guardate che storia Qua Sporcizia Alcol Dappertutto C'era del vino Tipo là Che era vino Ecco qua Me ne manca Ancora un po' Forse qua dietro Eccolo là Ok Almeno qua Ce l'ho fatta Quindi Installa I dispositivi Pulisci La finestra Installa I dispositivi Mi manca Un dispositivo Ah la lavatrice Si sono portati La lavatrice Ok Dobbiamo Comprarla Lava Lavatrice Ma caspita E' combinata Ok Che bello Una volta L'ho fatto Veramente Amo Così liberiamo Il cestello Se no Non gira Ok Tutta sta roba Non me la ricordo Proprio Ok La piastra Avvitiamo Questa piastra E non riesco Proprio A prenderlo Ah ecco Ok Il tubo Dall'acqua Lo inseriamo Nel punto giusto Avvitiamo Manca lo scarico Ovviamente Fatto Ok Pulisci la finestra E col bagno Ragazzi Siamo pure Oh Quanto abbiamo guadagnato Finora 3000 euro Di guadagno Per ora Raga Mica male Allora Poi Qua Dentro Dobbiamo Assolutamente Pulire E dobbiamo Mettere un altro Termosifone Perché manca pure Ovviamente Avvitiamo Allora Che devo fare Qua Pulisci la finestra Tutte sporche Tutte Unte Fatto Poi Bene Questa stanza È completa Oh Cavolo Qua dentro Guarda Ah già Aspetta Ho dimenticato Che in quella stanza Devo sistemare Megli immobili Vero Ok Però è comodo Sapere Dove Lo sporco Che alle volte Non si vede bene Tipo adesso So che qua C'è sporco Anche se non lo vedo So che però Eccolo Ok Qui da qualche parte pure È tipo Non si vede bene Questo sporco Ma Eccolo L'ho beccato Ce n'è ancora No L'ho tolto tutto Aspetta Ci stanno ancora Dei rifiuti A dire Ah Eccoli là No Ancora addirittura Ci stanno Altri rifiuti Cerchiamo Questi altri Rifiuti Raga Allora Innanzitutto Il mobiletto Questo Lo vado A piazzà Spostiamo Sto specie De letto Qua O divano Quello che è Qui pare Tutto Ok Ah Questo era Da gettare Non lo sapevo Ok Questo Lo mettiamo Qua Quindi Instala dispositivi Pulisci finestre E dipingi Di bianco Ah Questo va pure Dipinto Ho capito Va bene Allora Per intanto Mettiamo il radiatore Anche se era meglio Farlo dopo Aver dipinto Va bene Ok Puliamo Le finestre Fatto Finestra Numero Due Fatto E mo Dobbiamo Dipingere Di bianco Ma c'è ancora qualcosa Allora Dipingi Di bianco Pitture Allora Compriamo Il colore Bianco Dipingere E cominciamo Raga A dipingere Di bianco Ancora Un po' E completiamo Vediamo se c'è Basta sto Barattolo Di colore Ancora Punti Abilità Non ne ho Sbloccati Ovviamente Più facciamo Una cosa Più punti Abilità Ci da Allora Questo Con questo Questo Con questo Questo Con questo Questo Con questo Finito Manomale Che c'è Basta Dai C'è Basta C'è Basta Tieni Premuto E cambia Dipingere Solleva Come mai Non me le fa Vendere Le cose Mo Prima me le faceva Vendere Mo Non me le fa Vendere A sporcizia Quella Non manca Mai Per terra Ok Quindi Devo Comprare Un Radiatore Di quello Grande Un bel Radiatore Qua Da bagno Avvitiamo Ok E alla fine Credo che ci vuole un lavandino Togliamo questi Vediamo un po' Il lavandino No Lavello Lave Lavello Acquista Monta Eccolo qua A posto Ormai sono diventato pratico Quindi non ci vuole niente Ok Vai dentro Avvita Tu vai qua Vai dentro Avvita E tu vai qua Questo con questo Avvitiamo lo scarico Ecco fatto Bene Oh c'è ancora qui sporco All'ingresso Finito Ah già vero Devo sistemare sta stanza Sta sedia La metto qua Ok Almeno mo Sta stanza Va bene Sì Va bene Quindi questa stanza Va bene Questa stanza Va benissimo Manca un ultimo compito In una stanza Devo trovare Quest'ultima stanza Ok L'ordine E' pronta Al 100% Ah Ce l'ho fatta C'era un po' di sporco Dietro alla vasca Da bagno Raga Finito Ce ne andiamo proprio tardi Stava fa buio Completato Al 100% Vai 4.825 Quasi 5.000 euro Di guadagno Quasi 5.000 Bella 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 È stata una casa Parecchio Tosta Ma l'abbiamo Completata Al 100% Raga Il tempo è Stravolato via E purtroppo Non posso fare Altro Non abbiamo Sbloccato Comunque La possibilità Di piazzare Le pareti esterne Ancora Intanto C'ho un punto Abilità Che Quasi Quasi Lo vado a piazzare Su pagamento Ordini di più Dai Che più soldi Famo Meglio è E qui c'è un altro Punto Montaggio più veloce Intonagatura E facciamo qua Perché se no Almeno Questo sicuramente Poi lo dobbiamo fare Ok raga Quindi Spero che questo Che vi sia piaciuto Mi raccomando Come sempre Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel Mi piace Ci vediamo presto Ragazzi Ciao alla prossima